oddio marco si ci sono mamma mia leggenda c'è ma ti sembra c'è ma che hai trovato e ho paura di aprire ma apri ora c'è un nuovo affa pack ora ti esce mimetica termite arma mimetica rosa shocking oppure c'è un nuovo affa pack vediamo che hai trovato porco di ma che cazzo l'uomo 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 se l'uomo l'uomo il calmino non parla ya loris è uscì esce perché così che mi stefano ya stefano entra ma stai zitto basta prendere in giro basta ma che ti sta prendendo in giro ma sei stupido no tu sei stupido via stefano dai da zitto ma sei stupido te lo diciamo perché vabbè ridi con poco in party quando sei uscito basta ma perché sei uscito prima da party perché dovevo come dire e provare la rete così non l'aggava più cosa ti ha chiamato ya stefano e sei uscito pensavo che ti ero offeso pensavo che ti chiami stefano no no libera 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 o faccia di merda a nulla ok ma cambiava tra clown in che sei ridicolo ma meglio ma meglio quello la che di una di una donna possiamo che che tutti metti la donna per avere più cosa più amicizie così la gente pensi che tu sei una femmina ma che cazzo cazzo stai dicendo ma se non sai manco chi è ma sei stupido ma sai almeno chi è questo c'è vedi non sai neanche chi è quindi si vabbè ovviamente x bomber life is stranger si ok la gente sa che comunque x bomber non è che vabbè dai lasciamo stare ma basta ancora tu che vabbè e poi le informazioni persone c'è scritto youtube x bomber uno va a guardare capisce che non sono femmina non è che si sono una femmina arrapata come la mamma di scar vabbè ya stefano e mi ha buttato oh di lì di lì a stefano di smutarmi dai dai vota vota scar vota vota per favore votato ok eh cazzo di a stefano di smutarmi clown in smuta ma si chiama stefano digli a stefano di smutarmi eh non ti volevo smutare no allora niente allora dopo non gioco più con lui e dopo non gioca più con te no eh madonna che bimbo minchia hai capito io ho l'avatar per fare più amicizia eh perchè così la gente pensa che sono una femmina eh hai capito live Texas Ranger oh ma la smetti ma sei stupido yaa stefano vabbè 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 caricatore uccidete mira raga uccidete mira perchè stefano che non vuole uccidere non lo so ma dov'è vabbè 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 vai ti bega ti bega vieni a che tu scala scala vieni a ti becare dai ti bega ti bega ti bega vieni chi significa di bega ma sei stu no basta non ho parole vi animati è stato un bomb dai 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 a stefano ma a 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 stefano 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 no vieni su dai a stefano vieni su remo stefano muoiti adesso adesso esce dal party piange mi scrive su ah no perchè il tefano ha rotto quindi mi scrive su facebook vabbè con cazzo ridi scus la bomba la papà dai a sefano doveva volarli v s 8 us come cazzo fa come lo stesso 6 6 5 6 7 8 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 no no adesso rateo 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 oh raga vi dammi il mio rateo eh 0.0 vi dammi il rateo di scar eh 0.8 vi dammi il rateo di clown 0.7 ma vabbè eh vabbè tanto è libero c'è la destra stefano spara stefano ya stefano stefano ya stefano sta arrivando ya a sinistra sinistra è trattato nella stanzia da sinistra ah ma veramente è trattato nella stanzia da sinistra io ho sparato a caso f***cio ostaggio catturato dalla squadra d'attacco ya stefano avevo catturato l'ostaggio ya moriti stefano hai rotto scout f***o perchè non ti muovi dove te ne vai da stefano vabbè 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 chi parla bene tu non è quindi ero so perché troppi pompini ma che cazzo hai un concetto di maestria nella gola hai visto scar così così si gioca poi tu mira a destra non c'è nessuno mira a sinistra stanno ma non cazzo parli i bombi di merda ero tutto cazzo ya stefano no hai visto i difensori hanno il lì ya stefano